Buonasera, benvenuti da Michele Cassetta, il medico conduttore a questo nuovo appuntamento con Salutando, il programma di informazione sanitaria in onda tutti i mercoledì su Nettuno TV e naturalmente anche in streaming su nettunotv.tv. Parleremo questa sera di un tema conosciuto, parleremo del fumo, credo che non esista nessuno che non sappia quanto il fumo possa far male alla nostra salute, nonostante questo molte persone continuano a fumare, ma poiché ci piace fare prevenzione e fare informazioni e divulgazioni scientifiche in un certo senso, quello che vorremmo dire stasera è informare perché esattamente il fumo fa male, perché per esempio ci sono dei modi alternativi di fumare se questi sono così dannosi, in una tendenza alla divulgazione che non è certamente quella della minaccia, del terrore, ma è quella della semplice informazione, questo ci sembra opportuno. Abbiamo quindi identificato una persona, un caro amico, un collega e un pneumologo che si occupa da tanti anni di questo tema ed è il dottor Vincenzo Zagà. Vincenzo, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Grazie di essere intervenuto e soprattutto volevo farti i miei complimenti perché il dottor Zagà da qualche giorno, direi, presiede questa società molto importante che si chiama CITAB, la Società Italiana di Tabacologia. Sarà un incarico che per tre anni ti impegnerà, quindi prima di parlare del fumo, dei nostri polmoni, delle modalità di comunicazione sulle quali io vorrei sicuramente coinvolgerti, vorrei chiederti cosa è la CITAB, chi siete e quali sono gli scopi che vi proponete? Sì, la CITAB, la società italiana di tabacologia, nasce nel 99 da un'esigenza, quella di unire e di riunire un po' tutte le competenze in fatto di tabagismo, perché prima, come nella migliore tradizione dei campanili italiani, ovviamente ognuno andava per conto proprio. Quindi ci siamo uniti ed è una società praticamente trasversale, quindi multidisciplinare, che colpisce dall'opinomologo ovviamente, che interessa, deve interessare dal promologo, cardiologo, odontoiatra, eccetera, eccetera. Ed è una società che cerca di fare informazione, formazione soprattutto, perché ricordiamoci che io stesso, ma tutti i medici, chi esce dalle scuole infermieristiche, esce senza sapere nulla della prima causa di morte evitabile e questo è veramente scandaloso a nostro parere. E poi diciamo che siamo interlocutori privilegiati dell'Istituto Superiore di Sanità per quanto riguarda il tabagismo, quindi su cui noi cerchiamo di fare pressing, ovviamente, e di fare squadra per il controllo appunto del tabacco. Allora, il tema che tu affronti è molto interessante, partiamo subito col definire i dettagli. Parli di tabagismo, quindi diciamo il fumo di sigaretta può essere considerato una vera patologia primaria oppure un'abitudine sbagliata che porta a delle patologie secondarie? Sì, una cosa che solitamente noi diciamo sempre, in qualsiasi sede, evitiamo di parlare di vizio, di abitudine. Il tabagismo è una dipendenza, lo dice l'OMS, lo dice il manuale di psichiatria americano, i CDC di Atlanta, quindi è una dipendenza psichica. Purtroppo è una malattia psichiatrica, certo, dettata o comunque causata da una sostanza che purtroppo è illegale ed è socializzante entro certi limiti. Quindi è una dipendenza che io dico sempre che è una malattia che è come una bomba a grappolo, diciamo così, è capace di creare altre patologie, respiratore, cardiovascolari e a livello di vari organi. Di questo ci occuperemo, quindi vedremo esattamente quali sono gli organi che vengono evidentemente più attaccati al fumo di sigaretta. Vedremo anche che si stanno creando fumi alternativi, modi di fumare alternativi e di questo parleremo sicuramente. Però nella ricerca, di qualche informazione per portare avanti questa puntata, ho scoperto delle cose incredibili, come dicevi giustamente tu, è un'abitudine socializzante che naturalmente non ha avuto sempre la stessa valenza nel corso della storia, dei tempi. Ci sono stati periodi storici in cui il fumo è stato bandito, per esempio ho scoperto che nel 1600 in Cina si poteva essere decapitati se si veniva trovati a fumare. Penso che la Citab non si proponga questo come deterrente. Poi ho visto una cosa molto interessante, che il regime nazista degli anni 30 è stato forse il primo a mettere in stretta relazione i tumori al polmone in un periodo in cui magari non c'erano le indagini diagnostiche che ci sono adesso, col fumo di sigaretta. E mentre i soldati in trincea venivano forniti di sigarette, il regime nazista degli anni 30 mise in guardia da questo tipo di atteggiamento e quindi forse per primo scoprì le relazioni. Ti chiedo, da quanto tempo noi sappiamo che c'è una relazione così specifica e diretta tra il fumo di sigaretta e il tumore al polmone, per esempio. Allora, i primi studi diciamo che iniziano già negli anni 30, negli anni 30 ed erano pubblicati proprio perché la lingua scientifica più in voga allora era proprio il tedesco. E' pubblicato in tutta la lingua tedesca. E' di un tale, un italo-argentino, tale Angel Rofo. Poi dopo è stato dimenticato e sono venuti fuori altri studi, altri studi diciamo così, soprattutto dagli anni 50. E dagli anni 50 si è cominciato a mettere proprio in relazione, poi causa-effetto fumo di tabacco e tumore polmonare. Poi sappiamo che nel 62-63 il Sergeant General americano ha sancito, ha praticamente sancito la causalità stretta fra fumo di tabacco e tumore polmonare. ovviamente questo tumore polmonare, poi queste patologie sono dettate di tante sostanze. Ricordo solamente che in quella nuvoletta di fumo di tabacco praticamente si annidano, si liberano, sono presenti più di 7000 sostanze nocive, fra cui più di 70 cancerogeni. E fra questi, se mi permetti, anche il Polonio 210, che le multinazionali del tabacco conoscevano da anni, ma che hanno tenuto sempre sotto traccia. Noi siamo a conoscenza di tante cose, fra cui della radioattività del tabacco, da diciamo 20 anni. Chiarissimo. E quindi, diciamo, il vostro ruolo è chiaramente quello di sensibilizzare anche su questi argomenti. Passiamo da temi legati strettamente anche a temi comunicativi. Come parlavamo, come dicevamo io e te prima che iniziasse la puntata, quello del fumo è un tema anche molto legato all'efficienza e all'efficacia della comunicazione, cioè comunicare alle persone che non bisogna fumare, oppure che fumare fa male. Invece noi scopriamo, vorrei da te una conferma che negli ultimi anni c'è un avvicinamento precoce al fumo, per esempio fasce adolescenziali. Io vedo, avendo dei figli di quel tipo, di quell'età, ragazzini di 13, 14, 15 anni fumare regolarmente. Quindi vorrei sapere da te quali sono in questo momento le statistiche, cioè le campagne di comunicazione sono efficaci su quella fascia d'età oppure addirittura c'è un aumento di persone di 12, 13 anni che si avvicinano al fumo. Sì, partiamo dai numeri ovviamente che ci danno la dimensione del problema. In Italia sono dati ovviamente recenti, quindi 2017 dell'Istituto Superiore di Sanità, abbiamo 11 milioni e 700 mila fumatori, quindi quasi 12 milioni di fumatori. Bene, di questi 12 milioni diciamo che i ragazzi hanno una grande, diciamo così, c'è una grossa presenza quindi di tabagismo nella fascia, diciamo sì, adolescenziale. E quello che abbiamo notato attualmente è che le ragazze, quindi le ragazze praticamente fumano molto di più, cioè dal 17% sono passati quasi a un 20% rispetto ai ragazzi che sono assestati sul 17%. E poi c'è da dire un'altra cosa, diciamo che gran parte dei fumatori, in tutte le interviste, in tutte le statistiche presenti, diciamo sì, in letteratura, hanno iniziato tutti prima dei 20 anni, cioè l'80-85% iniziano prima dei 20 anni. Questo che cosa ci dice? Ci dice che praticamente dove noi possiamo andare ad incidere per il controllo del tabacco? Soprattutto sulla fascia adolescenziale, perché è chiaro che il fumatore di 40-50 anni smetterà però, smetterà ma ovviamente una percentuale di un certo tipo, ma dove noi possiamo andare veramente a colpire, anche perché le multinazionali di tabacco vanno lì. Per loro sono le palaterie dove vanno a pescare tutta quella fascia di fumatori che smette di fumare. Parlo dell'Italia, per esempio, diciamo che bene o male i nostri centri antifumo smettono di fumare dai 15.000 ai 18.000 fumatori, altri 80.000 tutti gli anni li perdiamo per patologie fumocorrelate. È come se sparisse una città praticamente tutti gli anni dalla cartina geografica dell'Italia e quindi le multinazionali del tabacco devono ripristinare il loro profitto e dove vanno? Vanno praticamente nell'età adolescenziale. Ma la cosa preoccupante è che sotto i 15 anni fuma quasi il 15%. Quindi praticamente l'informazione va data, secondo noi, anche come società, anche a partire dal scuola elementare. Perché la scuola elementare effettivamente in un certo senso informa i ragazzi e dirò di più che sono i ragazzi, i ragazzi, diciamo, tra i 5 e gli 11 anni, che sono i migliori alleati nostri nei centri antifumo. Perché spesso i genitori vengono da noi perché non ce la fanno più, perché mio figlio mi stressa, perché mi scrive i bigliettini, papà muori, smetti, mamma, quindi nascondono le sigarette. E allora noi cosa facciamo? Spieghiamo che cosa significa. Quello è un messaggio subliminale importantissimo. Significa che il ragazzo fa un silocismo molto, molto elementare, lineare. Il papà mi vuole bene, il papà fuma, ma il fumo fa male, lo fa malare, potrebbe farlo morire, quindi il papà non mi vuole bene, o la mamma non mi vuole bene, quindi una richiesta di conferma d'affetto. E quella è un'arma molto importante in campo motivazionale nei nostri centri. Perfetto, io ti ringrazio che in questa risposta molto chiara e completa c'è materiale per fare tre puntate su questo argomento. La mia caratteristica di conduzione è quella di carpire le informazioni e le risposte dei colleghi e degli amici che vengono a trovarmi. Bene, hai parlato di cose fondamentali e quindi se tu sei d'accordo nel tempo che ci resta, che è abbastanza, è abbondante, diciamo, mi concentrei anche molto più oltre che sui danni del fumo. Sappiamo che ci sono grandi relazioni sul tumore al polmone, sappiamo, tu hai parlato giustamente prima per esempio che nel vostro gruppo ci sono degli odontoiatri. Moltissimi danni alla salute orale provengono dal fumo e vorrei che tu spendessi due parole su questo tema, tanto che addirittura io da medico mi occupo di questi argomenti, molto spesso quando si fanno terapie implantali, si mettono degli impianti in bocca alle persone, nei consensi informatici c'è scritto che questi impianti hanno statisticamente una percentuale molto inferiore di durata se il paziente è fumatore. questo aspetto qui che noi naturalmente proviamo a diffondere è ancora, è già sufficientemente conosciuto, si sa che chi fuma può avere delle conseguenze molto gravi al livello dei denti, della salute dei denti, della durata dei lavori odontoriatici e quindi così peggiorare la qualità della propria vita? Sì, assolutamente sì. È ovvio che il fumo di tabacco ovviamente è il primo apparato che va a colpire e il cavo orale, dopodiché arriva l'apparato broncopolmonare e quindi poi cardiovascolare eccetera eccetera. Quindi sicuramente i dentisti sono e dovrebbero essere in prima linea e dovrebbero essere anche formati come tutti i medici per carità. Quindi sono in prima linea perché? Perché effettivamente diciamo così le parodontopatie, i tumori della bocca, siete voi dentisti i primi a dover fare una certa anamnesi ma soprattutto siete i primi a scoprire certe patologie. Per cui è assolutamente imperativo. Ma voglio dire anche un'altra cosa. In una indagine, e questa è una lancia a vostro favore diciamo così come dentisti, nell'indagine appunto dell'Istituto Superiore di Sanità i dentisti sono un po' più attenti, diciamo che alla domanda il tuo medico di base e il tuo dentista ti hanno mai parlato, detto mai di smettere di fumare? Ebbene i dentisti sono sul 43% rispetto ai medici di base per esempio che in un 17-20% dicono devi smettere di fumare, almeno questo ecco. Interessante, infatti c'è un'associazione che raggruppa la maggior parte, circa il 70% dei dentisti italiani, si chiama Andy che da tanti anni fa l'Oral Cancer Day che noi abbiamo promosso diverse volte in questi studi, appunto il tema della prevenzione del tumore orale che spesso viene sottovalutato, è una causa anche di morte veramente molto importante. Allora, tornando alle risposte di prima, mi parlavi naturalmente giustamente del fatto che bisogna andare in scuola elementare e raccontare queste cose, ma bisogna anche sollecitare a tuo parere genitori medici al tema della coerenza, cioè è molto difficile dire a una persona di non fumare un bambino e dirglielo con la sigaretta in bocca e questo è una considerazione diciamo un po' autocritica, è il classico collega medico obeso che magari fa il nutrizionista e dice al paziente che non deve ingrazzare oppure il medico fumatore che dice al paziente di non fumare, ne vediamo ancora purtroppo ancora molto pochi ma veniamo un po' da questa cultura di incoerenza, pertanto secondo te bisogna anche concentrarsi su quel campo e voi lo fate della vostra associazione, della vostra società questo tipo di attività? Sì, allora diciamo, iniziamo col dire che la prevenzione primaria del tabagismo è il nostro tallone d'Achille, il tallone d'Achille è della prevenzione veramente e si fa molto fatica, ma si fa anche fatica perché non ci sono strumenti diciamo così, o meglio non tutti utilizziamo strumenti che siano il più possibile validati ed efficaci. Io qui mi sono interessato e mi interesso sempre anche di prevenzione primaria nelle scuole, devo dire che la provincia, soprattutto Casalecchio, San Giovanni e Persiceto per esempio sono quelle più sensibili rispetto alla città, ecco questo purtroppo lo devo dire. Noi da vent'anni facciamo, conduciamo delle campagne antifumo in queste scuole e ovviamente per parlare di fumo bisogna parlare come i ragazzi vogliono che si comuni, che si parli, no? Quindi noi in questi anni cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto delle convention, addirittura anche al Cinema Perla per esempio per degli anni, dove praticamente riuscivamo a tenere inchiodati sulla poltrona anche 500 ragazzi, ma come facevamo? Io mi sono stupito da solo perché ci siamo inventati un format, cioè la comunicazione del tabagismo, io ti parlerò del tabagismo ma parlando con una tecnica di contromarketing, cioè ti dico voi sapete come le multinazionali del tabacco ci hanno preso per i fondelli per anni? O vi hanno preso per i fondelli o vorrebbero prendere per i fondelli? E allora in questo contesto da spy story, spy story si può inserire, si possono inserire tutte le, tutte le informazioni, ma poi diciamo che tutte queste informazioni venivano o interrotte o loro lanciavano me o io lanciavo loro da un complesso rock, per cui ovviamente diciamo i ragazzi erano sempre in attesa del successivo pezzo e quindi riuscivamo a comunicare per due o tre ore senza problemi. Certo, infatti l'efficacia della comunicazione sta proprio nella personalizzazione del messaggio, questa vostra iniziativa è molto interessante. Quindi sono cambiate anche le abitudini, nella risposta precedente mi hai dato spunto per fartene delle altre. Per esempio io mi ricordo sempre, mio padre è medico e ricordo è un fumatore, è stato un fumatore fino a pochi anni fa, è uno di quelle persone che hanno smesso di fumare a 75 anni, quindi questo è veramente, diciamo che è una minoranza, è rientrare una minoranza delle persone. Però ricordo per esempio dei viaggi in macchina fatti con mio padre in cui con i finestrini chiusi si fumava addosso ai bambini per ore e ore, mi ricordo il cinema con i finestrini chiusi e ricordo anche le ribellioni di noi utilizzatori dei ristoranti quando venne fuori la legge. Quello che voglio dire è che bisogna certe volte usare di più perché noi stessi potremmo renderci conto che la vita potrebbe migliorare, se hai le abitudini che magari migliorano. Per esempio il fumo passivo, quello che si respirava al ristorante, al cinema, nelle macchine per genitori che fumano, persone che ti fumano in faccia, quanto è responsabile delle patologie polmonari, orali oppure delle malattie correlate all'utilizzo del fumo? Sì, gli ultimi dati che abbiamo sul fumo passivo, sulla nocività del fumo passivo ci dicono che ogni anno in Italia muoiono 2300 o quasi 3000 non fumatori che non avevano, per patologie fumocorrelate, che non avevano chiesto di fumare né di morire. Quindi questo è molto importante e veramente tanto di cappello alla legge Sirchia del 2005 che ha cambiato effettivamente alla salute degli italiani, c'è poco da fare, al di là del gusto e dell'olfatto diciamo così anche quando si va a mangiare o si va a prendere un kraffen che non sa più di tabacco per esempio, è già una bella cosa, ma soprattutto i benefici sulla salute. Ovviamente queste patologie fumo correlate al fumo passivo cosa sono? Possono essere dei patologie cardiovascolari come possono essere anche delle crisi d'asma, soprattutto in pazienti iperattivi, asmatici eccetera. Quindi questo qui è sicuramente molto importante, ma ultimamente se posso un momento andare avanti, una recente acquisizione che pochissimi sa è quella del fumo di terza mano. Che cos'è il fumo di terza mano? Allora, lo spiego con un esempio. Io fumatore, non c'è nessuno in casa, mi fumo una bella sigaretta. Bene, arriva il bambino, arriva un non fumatore in casa, dice papà c'è una puzza di fumo. Bene, quella puzza di fumo, cosiddetta puzza di fumo, non è altro che è una puzza veicolata praticamente dalla polvere presente in casa che si è arricchita di sostanze cancerogene, ossidanti eccetera, che poi viene fatta respirare. La stessa cosa, si parla di fumo in terza mano, per esempio quando la mamma dice bene vado fuori a fumarmi una sigaretta, quando vanno fuori a fumarsi la sigaretta, vado fuori a fumarmi una sigaretta, dopo rientro subito in casa, prendo il bambino e me lo coccolo in braccio. Bene, io trasmetto, fumo di terza mano, trasmetto praticamente tutte quelle sostanze, diciamo così, tossiche, quindi cancerogene comprese, praticamente al bambino comunque a chi ho in braccio. Quindi il consiglio qual è alle mamma, ai papà che fumano, che vanno fuori a fumare e poi dopo entrano in casa, dopo aver fumato, aspettare almeno un quarto d'ora, venti minuti fuori per potersi liberare il più possibile di, diciamo così, delle sostanze nocive che gli indumenti e i capelli hanno accumulato. Perfetto, quindi no, davvero un'informazione molto interessante perché dà un senso a tutto ciò che realmente noi percepiamo nella nostra vita quotidiana, cioè la persona che sa di fumo e quindi evidentemente, come dici tu, veicola ancora teoricamente minacce potenziali per chi gli sta intorno. Quindi fuori dai ristoranti, ormai quando andate a farvi una sigaretta, che tra l'altro posso dirvi, la verità è una scena deprimente, vedere tutte queste persone che si adono, lasciano i ristoranti le tavole vuote, certe volte mi capita di vedere le tavole che si svuotano e quindi se proprio dovete farlo rimanete un quarto d'ora oltre, quindi praticamente state fuori a invernarvi tutta la giornata. Sì, volevo aggiungere anche che il fumo di testa a mano si parla quando la macchina è impregnata dal fumo dei genitori, diciamo così, per cui i bambini continuano a respirare. Esattamente, e quello poi, la cosa della quale parlavamo prima, cioè richiamare al senso di responsabilità, per esempio, dei genitori, insomma, magari se desiderano che i loro figli non fumino, la coerenza è fondamentale, loro per primi dovrebbero non farlo e soprattutto anche stare attenti a questi tipi di atteggiamenti potrebbero essere potenzialmente pericolosi. Siamo arrivati alla fine del primo blocco, parleremo nel secondo blocco di temi molto interessanti, innanzitutto di come fare a smettere di fumare, quello ci interessa molto per chi ha questo desiderio e anche per chi non ce l'ha, poi parleremo per esempio di questi nuovi modi di fumare, le sigarette elettroniche, perché sono emersi sul mercato questi oggetti che naturalmente fanno meno male, ma vorremmo capire dal dottor Zagà quanto meno male fanno delle sigarette tradizionali, se sono così no, quindi questo è un tema sul quale si può discutere, perché sono un numero sufficiente di anni che ormai sono presenti sul mercato all'inizio, mi ricordo che non c'erano tante informazioni utili, però ci fermiamo un attimo col solito modo, col modo di sentire della musica, oggi la puntata dedicata al tabagismo è una puntata che va al ritmo di Bossa Nova e quindi sia ora che alla fine faremo sentire un brano di questo meraviglioso genere musicale e ho scelto una cosa molto particolare, una cosa nella quale Frank Sinatra e Antonio Scarlo Subrim cantano un pezzo insieme straordinario della cultura musicale dell'umanità, direi, ragazza dei Panema, garoccia dei Panema e la cosa che mi ha colpito è che grande Frank Sinatra canta fumando, questo richiama anche a degli atteggiamenti che noi possiamo naturalmente vedere e non riproporre, per esempio la federazione italiana in gioco calcio ha fatto una grande cosa, secondo me impedendo agli allenatori di fumare sulle panchine, in televisione sigarette non se ne vedono più, perché da questi comportamenti evidentemente poi ci possono essere tentativi di emulazione, al di là di queste cose Frank Sinatra rimane uno dei più grandi cantanti della storia, quindi direi che lo possiamo perdonare considerando l'interpretazione che ci farà sentire tra pochissimo. A tra poco, grazie. Sì, è l'altro modo. E tutto è più che un poema È la cosa più linda che ho già visto passare Oh, ma io la guardo così triste Ah, perché tutto è così triste Yes, I would give my heart gladly But each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at me Tall, tan, young, lovely, the girl from Pepe A neighbor goes a-walkin' And when she passes, I smile But she doesn't see I mean, she just doesn't see She doesn't see me